Ancora rinviato l'appuntamento con la prima vittoria per la Fidelisandria, punto importante per il Picerno. Allo stadio degli Ulevi termina 1-1 e succede tutto nel primo tempo con il botte risposta grazie alle reti di Urso per i pugliesi e Golfo per i Lucani. Cudini scelde il 4-3-1-2 con Urso a supporto di Pavone e Scipos dall'altra parte. Longo invece si affida al 4-3-3 con Reginaldo affiancato da Golfo e gli Urni. Per la prima occasione bisogna attendere solo tre minuti con una conclusione di Paulini della Fidelis che viene bloccato in due tempi da Crespi. Dopo la prima emozione c'è da aspettare 30 minuti praticamente fino al gol di Urso. Sventagliata perfetta di Arrigoni per Fabriani che la rimetta al centro per Urso. Il numero 10 deve soltanto poggiarla in rete per l'1-0. Al minuto 41 però c'è già il pareggio del Picerno. Dalma si rinvia in maniera non perfetta sulla palla vagante. Si coordina perfettamente Golfo che batte Zamarion per l'1-1 complice anche una deviazione di Milillo. Negli ultimi minuti del primo tempo c'è spazio anche per un ultimissimo brivido targato Fidelisanga. Scipos a pochi passi dalla linea di porta si coordina ma non riesce a superare Crespi. A riposo si va sul pareggio. Primi 15 minuti della ripresa senza grandi occasioni. È al minuto 61 che Scipos va in gol ma il secondo assistente sventaglia la bandierina indicando il fuorigioco e strozzando l'urlo in gol al degli Ulivi. Al minuto 68 prova a coordinarsi sempre l'attaccante numero 9 con il tacco ma la palla termina a lato. All'ottantunesimo Bolcius chiama Crespi alla parata con un tiro da fuori. Sulla respinta Candellori poi sbaglia tutto e alza la mira. Non si concretizzano gli assalti finali della Fidelis che forse avrebbe meritato qualcosina in più. Ma al degli Ulivi il risultato non si schioda dal pari e al triplice fischio è 1-1 tra Andrea e Picerno che fanno un altro piccolo passo in avanti in classifica. Prossimo impegno a Francavilla per gli uomini di Cudini mentre i Lucani affronteranno il monopoli al donato Curcio.